Obiettivo revisionare l'attuale piano regolatore generale di Pineto. È pronto il piano strutturale strategico con il quale l'amministrazione Verrocchio punta a dare risposte veloci alle esigenze urbanistiche che arrivano dal territorio. Un piano che contiene sei focus, sei punti nodali che coinvergono nel miglioramento dell'attrattività turistica di Pineto, senza snaturare però l'attuale assetto urbano, ma recuperando il patrimonio edilizio esistente e migliorando la viabilità. Altro punto fondamentale è l'impiantistica sportiva e poi la sicurezza e la fruibilità delle scuole. Abbiamo tracciato un po' le linee, anche i tempi, perché abbiamo il dovere di dare risposte. Abbiamo la responsabilità in questo senso, ma la sentiamo anche rispetto a ciò che ci viene lasciato negli anni da chi ha voluto il nostro piano regolatore in questo modo. La sua pianificazione negli anni è stata vincente e si vede anche dall'attenzione urbanistica che c'è stata anche nello sviluppo territorio. Il consigliere che avrà il compito di seguire da vicino lo sviluppo strategico della città di Pineto è Alberto Dell'Orletta. Il documento contiene tutta una serie di indicazioni, una serie di indirizzi, di obiettivi strategici che servono a migliorare la nostra cittadina. Questi obiettivi come possono essere realizzati? O attraverso la fase, ripeto, della revisione generale del piano regolatore, che pure è importante, è pure un obiettivo di questa amministrazione, o anche con degli interventi localizzati attraverso le forme dell'urbanistica contrattata. È chiaro che la maggioranza dell'amministrazione ha ritenuto di individuare alcune priorità e di affrontare in maniera anticipata queste priorità.